Capitolo 26. Si prende l'espresso della ferrovia del Pacifico. Ocean to ocean, così dicono gli americani, e queste tre parole dovrebbero essere la denominazione generale del grande trunk che attraversa gli Stati Uniti d'America, nella loro massima larghezza. Ma in realtà la Pacific Railroad si divide in due parti distinte, Central Pacific tra San Francisco e Odden e Union Pacific tra Odden e Omaha. Là si raccordano cinque linee distinte, che mettono Omaha in comunicazione frequente con New York. New York e San Francisco sono dunque attualmente riunite da un nastro metallico ininterrotto, il quale misura non meno di 3.786 miglia. Tra Omaha e il Pacifico, la strada ferrata attraverso una regione ancora frequentata dagli indiani e dalle belve, vasta estensione di territorio, che i mormoni cominciarono a colonizzare nel 1845, dopo che furono scacciati dall'Illinois. In passato, nelle circostanze più favorevoli, si impiegavano sei mesi per andare da New York a San Francisco. Ora bastano sette giorni. Nel 1862 il tracciato della ferrovia fu stabilito fra il 41esimo e il 42esimo parallelo, nonostante l'opposizione dei deputati del Sud, i quali avrebbero voluto una linea più meridionale. Il compianto presidente Lincoln fissò egli stesso il capolinea della nuova rete alla città di Omaha, nello stato del Nebraska. I lavori vennero subito cominciati e proseguiti con la celerità americana, che non conosce ingombri di carte né di pratiche burocratiche. Né la rapidità della mano d'opera doveva in alcun modo nuocere alla buona esecuzione della strada ferrata. Nella prateria si avanzava in ragione di un miglio e mezzo al giorno. Una locomotiva, procedendo sui binari del giorno prima, recava quelli da mettere in opera il giorno seguente e correva su di essi a mano a mano che venivano posati sulla massicciata. La Pacific Rail Road ha molte diramazioni lungo il suo percorso negli stati dell'Ohiova, del Kansas, del Colorado e dell'Oregon. Lasciata Omaha, la linea percorre la riva sinistra del fiume Piat, fino all'imbocco del ramo settentrionale, segue il ramo meridionale, attraversa il territorio di Larami e i monti Wasatch, gira intorno al lago Salato, giunge a Salt Lake City, la capitale dei Mormoni, si addentra nella vallata della Tuila, fiancheggia il deserto americano, i monti di Sidon e Humboldt, il fiume Humboldt, la Sierra Nevada, e ridiscende per sacramento fino al Pacifico, senza che il suo tracciato super in pendenza i 112 piedi al miglio, anche nella traversata delle montagne rocciose. Tale era la lunga arteria che i treni percorrevano in sette giorni e che avrebbero permesso all'onorevole Phileas Fogg, egli almeno lo sperava, di prendere a New York il giorno 11 il piroscafo per Liverpool. La carrozza occupata da Phileas Fogg era una specie di lungo omnibus che poggiava su due carrelli di quattro ruote ciascuno, la cui mobilità permetteva di prendere curve di piccolo raggio. All'interno, nessuno scompartimento, due file di sedili disposti da ciascun lato perpendicolarmente all'asse e fra i quali era un passaggio che conduceva ai gabinetti, di cui ogni carrozza era provvista. Le vetture, per tutta la lunghezza del treno, comunicavano fra loro per mezzo di passerelle e i viaggiatori potevano circolare da un'estremità all'altra del convoglio che era anche fornito di carrozze saloni, carrozze belvedere, carrozze ristorante e carrozze bar. Mancavano soltanto le carrozze teatro, ma un giorno vi saranno anche quelle. Sulle passerelle circolavano continuamente venditori di libri e di giornali che spacciavano la loro mercanzia e venditori di liquori, di commestibili, di sigari che non mancavano di clienti. I viaggiatori erano partiti dalla stazione di Oakland alle sei di sera. Era già notte, una notte fredda, cupa, con un cielo coperto di nubi che minacciavano di risolversi in neve. Il treno non procedeva con grande rapidità. Tenendo conto delle fermate, esso non percorreva più di venti miglia all'ora, velocità che, tuttavia, doveva permettergli di attraversare nel tempo prescritto gli Stati Uniti. Si parlava poco nella carrozza, dal l'altra parte. Il sonno aveva vinto in breve i viaggiatori. Paspartout si trovava accanto all'ispettore di polizia, ma non gli rivolgeva la parola. Dopo gli ultimi avvenimenti, i loro rapporti si erano sensibilmente raffreddati. Non vera più fra loro né simpatia né intimità. X non aveva mutato nulla nel suo contegno. Paspartout, invece, sì. Si manteneva in un riservo estremo, pronto al più lieve sospetto a strangolare il suo ex amico. Un'ora dopo la partenza del treno cominciò a nevicare. Neve fine che, per buona fortuna, non poteva ritardare la corsa del convoglio. Attraverso i finestrini non si scorgeva altro che un immenso lenzuolo bianco, sul quale le volute del fumo della macchina parevano grigiastre. Alle otto entrò nella carrozza uno steward ed annunziò ai viaggiatori che era suonata l'ora di andare a letto. Quella carrozza era una sleeping car che in pochi minuti venne trasformata in dormitorio. Gli schienali dei sedili furono piegati, lettini accuratamente legati si svolsero per mezzo di un sistema ingegnoso. Le cabine furono improvvisate in pochi istanti e ciascun viaggiatore ebbe subito a sua disposizione un letto comodo, difeso contro tutti gli sguardi indiscreti, da fitte tendine. Le lenzuola erano candide, i cuscini morbidi. Non vera che da coricarsi e dormire, cosa che ognuno fece, come se si fosse trovato nella cabina bene arredata di un piroscafo, mentre il treno filava tutto vapore attraverso lo stato della California. In quella parte di territorio che si estende tra San Francisco e Sacramento, il suolo è poco accidentato. Quel tronco della ferrovia, sotto il nome di Central Pacific Road, prese dapprima Sacramento come punto di partenza e avanzò poi verso est, incontro a quello che partiva da Omaha. Da San Francisco alla capitale della California, la linea correva direttamente verso nord-est, fiancheggiando l'American River, che si getta nella baia di San Pablo. Le 120 miglia comprese fra quelle due importanti città vennero percorse in sei ore e verso mezzanotte, mentre erano immersi nel primo sonno, i viaggiatori transitavano per Sacramento. Essi non videro dunque nei bei corsi, nelle belle vie ampie, nei viali, nelle piazze, nei palazzi splendidi, nei templi di questa notevole città, sede della legislatura dello stato di California. Uscito da Sacramento il treno, dopo aver oltrepassato le stazioni di Junction, di Rocklin, Dobourn e di Colfax, si inoltrò nella foresta della Sierra Nevada. Erano le sette del mattino, quando transitarono per la stazione di Cisco. Un'ora dopo, il dormitorio era ridiventato una carrozza ordinaria e i viaggiatori potevano intravedere, attraverso i finestrini, i pittoreschi panorami di quel paese montano. Il tracciato della ferrovia obbediva ai capricci della Sierra. Qui, aggrappato ai fianchi della montagna, la ha sospeso al di sopra dei precipizi, evitando gli angoli bruschi con audaci curve, slanciandosi in gole strette che si sarebbero credute senza uscita. La locomotiva, luccicante, come una campana argentata, il suo scacciapietre che si protendeva come uno sperone, mescolava i suoi fischi e i suoi mugiti a quelli dei torrenti e delle cascate. E intrecciava il proprio fumo ai neri rami degli abeti. Poche le gallerie, pochi i ponti lungo il percorso. I binari circondavano il fianco della montagna, senza cercare nella linea retta il percorso più breve tra un punto e l'altro e senza violentare la natura. Verso le nove, per la vallata del Carson, il treno penetrava nello stato del Nevada, sempre seguendo la direzione di nord-est. A mezzogiorno lasciava Rino, dove i viaggiatori ebbero venti minuti per far colazione. Dopo quel punto, la linea ferroviaria costeggiando il fiume Humboldt risalì per alcune miglia verso nord, seguendo il corso del fiume. Poi piegò verso est. Né più doveva lasciare quel corso d'acqua se non dopo aver raggiunto i monti Humboldt, donde esso nasce quasi all'estremità orientale dello stato del Nevada. Dopo aver fatto colazione, il signor Fogg, la signora Auda e i loro compagni ripresero posto nella solita carrozza. Comodamente seduti, essi guardavano lo svariato paesaggio che si svolgeva sotto i loro occhi. Baste praterie, montagne che si profilavano all'orizzonte, torrenti che precipitavano con le loro acque spumeggianti. Talvolta, una grande mandria di bisonti, ammassandosi in lontananza, appariva come una diga mobile. Quelle schiere innumerevoli di ruminanti oppongono spesso un ostacolo insormontabile al passaggio dei treni. Si sono viste migliaia di quegli animali sfilare per diverse ore in file serrate attraverso i binari. La locomotiva è costretta allora a fermarsi e ad attendere che la via ritorni libera. Un fatto simile accadde anche quella volta. Verso le tre del pomeriggio, una mandria di dieci o dodicimila bisonti sbarrò alla strada ferrata. La locomotiva, dopo aver moderato alla velocità, tentò di penetrare con il suo sperone nel fianco dell'immensa colonna, ma dovette arrestarsi di fronte alla massa impenetrabile. Si vedevano quei ruminanti, quei bufali, come li chiamano impropriamente gli americani, procedere con il loro passo tranquillo emettendo, talvolta, formidabili muggiti. Avevano dimensioni superiori a quelle dei tori d'Europa, le gambe e la coda corte, il collo inarcato, sormontato da una prominenza muscolare, le corna lontane l'una dall'altra alla base, le spalle e il collo coperti da una lunga criniera. Non era il caso di pensare ad arrestare quella migrazione. Quando i bisonti hanno preso una direzione, nulla potrebbe né intralciare né modificare la loro marcia. È un torrente di carne viva che nessuna diga saprebbe contenere. I viaggiatori, sparsi sulle passerelle, guardavano il curioso spettacolo, ma colui che doveva avere più premura di tutti, Phileas Fogg, era rimasto al suo posto e attendeva filosoficamente che i bisonti si degnassero di lasciargli libero il passo. Paspartout era furibondo per il ritardo provocato da quell'ammassamento di bestie e avrebbe voluto scaricare contro di esse il suo arsenale di rivoltelle. «Che paese!» esclamava. «Semplici vuoi che fermano i treni e che se ne vanno come in processione senza affrettarsi più di quanto farebbero se non intralciassero la circolazione! Perdinci! Vorrei proprio sapere se il signor Fogg aveva previsto anche questo contrattempo nel suo programma. È quel macchinista che non ardisce lanciare la locomotiva attraverso quell'ingombrante massa di bestie!» Il macchinista non aveva tentato di abbattere l'ostacolo e aveva agito prudentemente. Egli avrebbe certamente schiacciato i primi bisonti colpiti dallo sperone della locomotiva, ma per quanto potente fosse, la macchina sarebbe stata presto fermata, il treno sarebbe inevitabilmente uscito dai binari con grave danno. La cosa migliore dunque era attendere, salvo poi riguadagnare il tempo perduto. La sfilata dei bisonti durò tre lunghe ore e la via diventò libera solo al cader della notte. In quel momento, le ultime file della mandria attraversarono il binario mentre le prime scomparivano oltre l'orizzonte, a sud. Quando il treno varcò le gole dei monti Humboldt erano le otto e quando penetrò nel territorio dello Utah, la regione del Gran Lago Salato, il curioso paese dei Mormoni. Erano le nove e mezzo.